Operatori, è il vostro caposquadra Eddie che vi parla. Il brief per le prossime missioni è disponibile. Manca pochissimo nei prossimi Cup e voglio vedervi scatenare l'inferno. Vole il paretto? Qui addirittura la terza kill, la quarta, fa quello che gli pare, voleva l'inchio, perché l'hanno concesso. Vi aspetta un'estate di competizioni molto serrate. Rizzi che nel frattempo, zitto zitto, letteralmente alle porte del sito non si sono a quarti di lui, potrebbe rinfreddermi ditte le spalle, smiratina! Radunate i vostri compagni, arruolatevi su SL Play e preparatevi a competere! E mi raccomando, state attenti ai droni!